mi chiamo jonathan kowalski un uomo sei venuto a dichiarare guerra al progresso in cerca di vendetta per riscattare se stesso qual è la via piccolo orso è il nostro cammino creare e difendere il suo popolo per il ciclo c'era una volta al western jonathan degli orsi stasera alle 21 con iris